Attuale comunque rispetto a quello di cui stiamo trattando, rispetto soprattutto... Io ho deciso che faccio silenzio finché non c'è un minimo di silenzio per... Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione è stata presentata il 12 di ottobre a seguito di una serie di servizi televisivi, di inchieste delle giornalistiche che hanno denunciato una serie di preoccupantissime infiltrazioni del mondo dell'estremo a destra, in movimenti politici e in ambienti che vedevano anche tra i propri coinvolti l'onorevole europarlamentare Carlo Fidanza, che è stato commissario straordinario dell'Agenzia Liguria del 26 febbraio 2016 al 2018. Nel momento in cui è stata messa in campo questa indagina che ha creato una grande discussione nell'opinione pubblica, anche nell'Europarlamento e in generale nella nostra comunità, ci sembrava doveroso esprimere due aspetti. Il primo è che in quelle trasmissioni vedevamo deriso uno dei giornalisti più esposti, che si chiama Paolo Berizzi, uno dei giornalisti italiani sotto scorta per le minacce del mondo neofascista e neonazista, e che dal 2019 vive sotto scorta. Peraltro il Presidente della Giunta regionale, se non mi ricordo male, ha presentato anche forse qualche suo libro tempo fa, proprio per la sede di Feltrinelli due anni fa. In generale, la seconda era un sentimento di preoccupazione che permane, perché dopo pochi mesi da quando è accaduto il fatto, noi abbiamo un'inchiesta in corso, abbiamo anche dei pericolosi segnali di infiltrazione di mondi neofascisti in partiti politici, che hanno preso in parte le distanze da questi passaggi, dal saluto romano del Commissario Fidanza e dalla presenza di personalità piuttosto discutibili. Aggiungo un altro elemento, che è quello che esiste un tema di permeabilità delle forze democratiche, da gruppi che non hanno l'obiettivo di portare legittimamente il proprio pensiero, ma è quello di destabilizzare la democrazia rappresentativa. Quindi quest'ordine del giorno chiede due cose. La solidarietà a Paolo Berizzi, giornalista che è stato oggetto di minacce e che anche in quella sede è stato deriso e calunniato. E la seconda, una presa di distanze nei confronti di quelle che sono state dal comportamento dell'onorevole Fidanza, che si è autosospeso da Fratelli d'Italia, ma questo è un altro discorso. Ma sicuramente, essendo un nuovo parlamentare del nostro collegio, fatta salvo alla presunzione di innocenza, esiste un tema di condanna politica che penso che quest'Aula dovrebbe in maniera unanime rappresentare. Grazie. Ovviamente è un ordine del giorno su cui non vi è un vincolo di maggioranza, essendo totalmente estraneo dall'accordo di governo ogni attività che riguarda il diritto penale. Ma se mi è consentito una riflessione che riguarda solo me stesso, evidentemente, così come è formulato, francamente mi vedo costretto a votare contro quest'ordine del giorno. Pur ribadendo tutta la mia solidarietà per Paolo Berizzi, che non solo è uno stimato collega, ma anche un amico personale che frequento spesso e di cui stimo l'impegno e il lavoro con serietà in tutti i campi della professione che condivido con lui. Ma non credo francamente che un'assemblea elettiva possa dichiarare incompatibile con lo svolgimento delle attività istituzionali perché l'elettorato passivo, per quanto mi risulta nel combinato disposto nella legislazione italiana, può essere negato ad un cittadino solo sulla base di una sentenza pronunciata dal suo giudice naturale, che non è certamente quella di un consiglio regionale, di un'assemblea elettiva. Quindi ritengo che associandomi alla solidarietà, che peraltro non è nel dispositivo ma è nelle considerazioni dell'ordine del giorno, al giornalista Berizzi, che credo abbia la solidarietà di tutti i componenti di quest'Aula per la serietà con cui svolge il suo lavoro, ma non credo che possa francamente quest'Aula pronunciarsi sulla coincompatibilità dell'attività istituzionale di chi che sia ammesso che ovviamente questa non venga pronunciata come pena accessoria da un tribunale della Repubblica e in quel caso si direbbe legalmente ultronea la pronuncia dell'Aula. Questo lo ritengo da un punto di vista squisitamente tecnico. Poi dopodiché la giustizia farà evidentemente il suo corso e non siamo noi né a doverla influenzare né giudicare. Grazie Presidente Totti.